Federico, una doppietta importantissima contro la Cremonese, che partita è stata? Sì, è stata una partita in salita perché abbiamo subito subito l'1-0, però non abbiamo perso la testa, ci siamo ricompattati, abbiamo cercato di mettere in campo quello che abbiamo provato la settimana, infatti i risultati sono venuti, abbiamo fatto un gran primo tempo e dopo il secondo tempo abbiamo forse un po' arretrato il baricentro, ma con il 4-1 abbiamo un po' chiuso la partita. Dopo Padova non era facile tornare con questa mentalità, eppure sul campo è sembrato veramente tutto molto semplice per il Verde Blu. Sì, non è semplice, c'è un lavoro di tutta la settimana, sapevamo che dopo domenica non avevamo espresso il miglior calcio e che oggi era una partita fondamentale perché potevamo staccare un po' la zona play-off, e quindi bene, è una vittoria importantissima questa. Senti, cinque gol, forse una delle tue migliori stagioni. Sì, 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 mi riesco a esprimere nel migliore dei modi, c'è il quinto gol come l'anno scorso, spero di farne altri.